oggi parliamo di clinch oh me l'avete chiesto in mille salse io ho sempre temporeggiato ma oggi voglio approfondire questo argomento vi darò infatti alcune dritte e alcuni consigli per affrontare al meglio questa delicata fase di un combattimento di muay thai la famosa arte nell'arte, delicata e affascinante fase ma chi sono io? io ragazzi sono Claudio se vi seguite da un po' mi dovreste conoscere qui sul web sono anni che parlo di muay thai ed è qualche tempo che ho deciso di mettermi a lavorare assiduamente anche su youtube ma bando alle ciance per analizzare questo video mi sono voluto soffermare su uno dei combattimenti di muay thai che mi è piaciuto di più recentemente sto parlando del match fatto a one infatti strana la cosa io critico sempre one ma questo match mi ha veramente stupito tra con clay e ni muay thai e super bowl ti dead cow cow è accaduto due venerdì fa è un combattimento veramente concitato è un combattimento veramente intenso c'è un altissimo scambio di colpi scambio di pugni e delle fasi di clinch molto molto interessanti molto molto articolati è proprio su queste che io mi soffermerò in questo video anzi ti consiglio di andare a vedere il video integrale di questo combattimento non sto a metterti il link basta che scrivi su youtube con clay e ni muay thai versus super bowl ti dead cow cow e 99 cow cow e dovresti trovarlo ok vai a vederlo perché è un match veramente una vera chicca secondo me per il panorama di one championship uno dei pochi match che possiamo dire di muay thai vera prima di iniziare a analizzare queste fasi prima di iniziare a darti questi consigli sulla gestione del clinch ti voglio dire alcune cose però la prima è che ogni giorno dal lunedì al venerdì nella fascia oraria delle 13 barra 13.30 qua sul canale youtube io rilascio sempre un nuovo video quindi ogni giorno c'è un nuovo video dove ti parlo di muay thai quindi se ami la muay thai non puoi non iscriverti al mio canale fallo iscriviti e attiva la campanella per non perderti ogni giorno aggiornamenti quotidiani nuovi video sul mondo della muay thai seconda cosa fondamentale che ti devo dire devo fare la marchetta perché se vuoi sostenere il duro lavoro che faccio qua su web te l'ho appena detto pubblico ogni giorno video e vuol dire che io per 6 barra 8 ore al giorno sono qua a registrare video con i contenuti eccetera eccetera per sostenere questo mio lavoro c'è tecniche dei campioni che cos'è tecniche dei campioni? tecniche dei campioni è un percorso video barra di schede d'allenamento dove ci sono dei video tecnici con le tecniche di grandi campioni campioni come buakau, senchai, superbon, rotang inoltre ci sono video tecnici dove andiamo a analizzare la gestione di avversari difficili come picchiatori come avversari più alti come avversari forti con i calci ci sono video anche tecnici sulle basi della muay thai ragazzi tecniche dei campioni è un videocorso completissimo ricordati di sostenere il canale e niente bando alle ciance entriamo nel vivo di questo video dedicato alla fase del clinch sigla allora come ti dicevo poco fa questo combattimento tra Conclay e Superbowl è un match molto acceso ci sono degli scambi veramente forti di pugni in particolare Conclay picchia molto duro e Superbowl subisce i lavori di mano di quest'ultimo che cosa fa Superbowl per andare a coprire questo gap lavora tanto in clinch chiude tantissimo nella fase del clinch come fa a chiudere? ecco il primo punto su cui voglio soffermarmi il primo consiglio su cui voglio porre la tua attenzione è quello dell'entrata in clinch ragazzi nelle entrate in clinch dovete fare attenzione a non scoprirvi troppo perché rischiate di prendere dei brutti pugni non vi potete lanciare aprendo le mani quando entrate in clinch guardate Superbowl che cosa fa tieni sempre bene le mani avanti utilizza la guardia lunga cerca di usare le mani per poi accorciare la distanza e entrare in clinch sono tutte fasi, tutti consigli questi che potete prendere e portare proprio nell'ingresso di questa fase di questa arte nell'arte della moitai perché ragazzi se arrivate troppo scoperti nella fase del clinch se rischiate di prendere dei pugni in maniera dritta diretta che andate capò senza se e senza ma quindi imparate a mascherare l'ingresso in clinch come vi dicevo ci sono decine di modi per mascherare l'ingresso in clinch potete usare le mani a accorciare la distanza potete utilizzare la guardia lunga potete usare delle finte la cosa importante è che non andiate lì di fronte a lui a prenderlo specie in una fase di scambio aprendo le mani come per dirgli ragazzo colpisci sul mento e mettimi KO altra cosa molto importante per quanto riguarda la fase del clinch è sicuramente la posizione di guardia e delle gambe nella postura perché cosa vuol dire? vuol dire che quando clinci non puoi stare nella tua solita posizione di guardia di Muay Thai perché sei totalmente sbilanciato guardate in queste fasi del combattimento che cosa fanno i due fighter le gambe sono sulla stessa linea se voi vi mettete su una linea la posizione delle gambe deve essere sulla stessa linea il peso è ben bilanciato i due sono ben posizionati questo gli permette di essere sbilanciati con più difficoltà di avere il baricentro più basso, il baricentro più posizionato se voi tenete la classica posizione di guardia della Muay Thai nella fase del clinch questo è un problema perché siete sbilanciabili molto molto facilmente quindi ragazzi curate la postura nella posizione del clinch quando entrate in questa fase abituatevi ad avere i piedi sulla stessa linea abituatevi a tenere il baricentro basso e abituatevi a cercare di non farvi sbilanciare cioè imparate a gestire il vostro peso allora apriamo una parentesi chiaro che attraverso un video io non posso insegnarvi il clinch ragazzi il clinch è una fase del combattimento che necessita veramente tanta pratica infatti ad ogni allenamento dovreste dedicare almeno 20-30 minuti solo nella fase del clinch cioè ci si può mettere a spiegare il clinch ma il modo migliore per imparare è farlo cioè è poco da fare è come andare in bicicletta ecco un punto sicuramente importante per questa fase è il fatto di lavorare subito cioè appena entrate in clinch non dovete rimanere inattivi dovete lavorare immediatamente cioè il mio consiglio è quello del ragazzi quando entrate in clinch portate subito una ginocchiata infatti che cosa fa Super Bowl in questa fase anzi in questa fase in molte fasi del combattimento appena accorcia nella fase di clinch il primo colpo che porta è la ginocchiata appena entra lavora cioè non potete rimanere statici fermi, immobili se entrate in clinch e rimanete immobili siete un sacco per l'avversario cioè rimanere immobili nella fase del clinch vuol dire proprio diventare un sacco e diventare anzi un palo facile da buttare a terra che bisogna essere dinamici nella fase del clinch infatti questo punto si collega subito al punto successivo che è quello di lavorare costantemente con le mani e muoversi in continuazione nella fase del clinch cioè se rimanete statici diventate un bersaglio infatti guardate qua Super Bowl e con Clay come lavorano come scambiano le mani nella fase del clinch sempre in controllo perché legato a questo punto c'è il successivo ragazzi il pericolo il primo pericolo che correte quando andate a clinchare sono le gomitate dovete prima pensare alle gomitate che ha le ginocchiate quando entrate nella fase di clinch molti entrano nella fase di clinch e non controllano le braccia dell'avversario magari non posizionano le mani in maniera corretta e quindi si prendono delle gomitate veramente stupidi ecco la prima cosa che dovete fare quando entrate in clinch quando subite il clinch più che altro è quella di controllare le braccia dell'avversario perché i gomiti sono a parte che ti mettono K.O. in maniera molto molto veloce però devi imparare a controllare le braccia dell'avversario questo è un punto fondamentale segnatelo prendi carta e penna e mettili in pratica quando clinch cioè le tue mani devono essere sempre in grip in grip come quando si va in moto a contatto col corpo dell'avversario se le tue mani non sono a contatto col corpo dell'avversario o se le tue braccia ancora peggio non sono a contatto col corpo dell'avversario questo è un problema abbastanza grave perché lui probabilmente riuscirà a trovare la strada per portare le gomitate poi legato a questo punto potremmo anche andare a dire che devi capire quando l'avversario ti porta cerca di portarti le gomitate e quindi andare a premere diciamo sulle spalle e sulle braccia dell'avversario per impedire di portargli questa tipologia di colpo però qui entriamo forse un po' troppo nello specifico e farlo capire farla capire nel video questa cosa è abbastanza difficile tieni buono il punto che ti ho appena detto sempre legato al discorso colpi nella fase del clinch secondo me è molto importante come cosa il fatto di variare la tipologia e la linea di colpi è intelligente specie agli inizi quando siete nei primi combattimenti ma poi anche quando si sale di livello variare l'entità dei colpi è corretto entrare lavorare sotto con una ginocchiata e poi subito creare lo spazio per lavorare sopra con una gomitata oppure viceversa entrare in clinch portare una gomitata girare l'avversario e chiudere con una ginocchiata ok proprio l'idea di cambiare spesso e in continuazione l'entità del colpo quindi ginocchiate e gomitate e l'altezza di conseguenza di questo colpo anche semplicemente l'altezza delle ginocchiate prima da ginocchiata la gamba giri l'avversario e poi porti una ginocchiata al corpo questo manda in confusione l'avversario perché tu porti l'attenzione dell'avversario sulle ginocchia sulle cosce perché lo stai colpendo con le ginocchiate quindi lui apre mura di curare chiudere la distanza per non prendersi questa tipologia di colpo e magari alleggerisce alleggerisce la presa più in alto quindi è più facile entrare con le gomitate ok sto sbiascicando oggi faccio una fatica voi a parlare bevo un goccio d'acqua mmm è bella fresca ragazzi è bella fresca ma legato ai punti precedenti raga è importante dire che non dovete fare un clinch inattivo perché non dovete fare un clinch inattivo uno perché se voi rimanete inattivi al 90% delle volte lavora in maniera attiva l'avversario quindi rischiate di prendere dei colpi veramente pericolosi il secondo motivo per cui non dovete avere un clinch inattivo è che se entrambe dei due porco il uno piacere al grande piacere ospite di avere ospite il secondo motivo per cui non dovete avere un clinch inattivo è che se tutte e due non lavorate l'arbitro vi divide e se avete un avversario che picchia duro di mano ecco poi riandare a chiudere la distanza riandare a cercare il clinch può diventare un problema ok quindi cercate sempre specie se avete di fronte un picchiatore uno che picchia con le mani oppure specie se avete fatto fatica a chiudere la distanza la vostra distanza quella del clinch cercate sempre di essere attivi perché se no è un po' è un po' un cazzo di problema va bene ultimo punto di questo video se no il video diventa lunghissimo raga a quando uscite dalla fase del clinch io vi consiglio sempre di portare un colpo perché molte volte l'avversario non si premura nel coprirsi non ha premura nel proteggersi ecco io il più delle volte che ho portato un colpo all'uscita del clinch devo dire che è entrato a bersaglio infatti guardate in questo frangente come Super Bowl all'uscita del clinch porta una serie di calci e fa piegare le ginocch- e piega le ginocchia a Conclay ragazzi io direi che abbiamo detto abbastanza cose sull'argomento clinch direi che questo video è stato abbastanza esaustivo mi piacerebbe approfondire ancora di più l'argomento magari con un compagno per darvi delle dritte base sulla fase del clinch scrivetemi nei commenti se vi piacerebbe questa cosa scrivetemi per favore nei commenti quale di queste azioni nel clinch trovate più utile mettete più spesso in atto nei vostri clinch e buona nulla ci vediamo domani dalle 13 alle 13.30 circa con un nuovo video ciao grazie mille ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti